Musica Risoluzione del Consiglio regionale sulla GKN All'unanimità l'Aula chiede al Governo misure per impedire le delocalizzazioni Si risolve positivamente l'avvertenza Sittel, team assume 135 lavoratori, sindacati ed RSU ringraziano le istituzioni regionali Anche in Toscana sono riprese le lezioni ma per tanti alunni è già scattata la didattica a distanza Si studia una quarantena più leggera per i casi di positività tra gli studenti Tutti uniti per GKN Il Consiglio regionale si è espresso con un sì unanime sulla proposta di risoluzione sottoscritta da tutti i gruppi consigliari che impegna la Giunta ad attivarsi con il Governo per un intervento normativo contro le delocalizzazioni delle aziende Un tema di grande attualità che riguarda la GKN, l'azienda multinazionale di proprietà del fondo Melros Industries che ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio e il licenziamento di 422 lavoratori Tre i punti fondamentali della risoluzione approvata che è stata presentata dalla Presidente della Commissione Sviluppo Economico Ilaria Bugetti Si chiede alla Giunta regionale di attivarsi per quanto di propria competenza con l'auspicio di una revoca dei licenziamenti collettivi alla GKN e per monitorare l'evolversi della situazione di impegnarsi nei confronti del Governo perché venga approvata quanto prima la proposta di legge depositata inserendo i contenuti della proposta di risoluzione e nel caso di valutare l'opportunità di predisporre nel merito una proposta di legge toscana al Parlamento Si chiede inoltre che venga introdotto un apparato sanzionatorio adeguato per quelle aziende che pur avendo ricevuto contributi pubblici decidono di trasferire altrove le produzioni e che venga fornita la massima garanzia a tutela dei posti di lavoro Si chiede infine di valutare l'opportunità di dare un contributo diretto alla formazione di una normativa nazionale finalizzata a contrastare al massimo le delocalizzazioni delle aziende dal territorio nazionale Una voce forte che ci veniva chiesta prima di tutto dai lavoratori e dalle lavoratrici che abbiamo incontrato con il Presidente del Consiglio e la Commissione qualche giorno fa ed abbiamo sentito forte la responsabilità di questo atto che ci vedesse tutti insieme combattere dalla stessa parte Nel documento abbiamo ripreso i punti che ci vennero consegnati dagli stessi lavoratori in quella mattina Ecco che diventa un atto che vuol condannare un sistema selvaggio che vede la speculazione finanziaria e non rispetta un modello di lavoro dignitoso Noi dobbiamo sicuramente interrogarci sul modello di sviluppo che vogliamo e vogliamo farlo mettendo al centro la dignità dei lavoratori ma lo facciamo anche nel rispetto di quelle imprese, di quegli imprenditori e anche di quelle multinazionali che invece si sono sempre comportate correttamente Il nostro obiettivo è la correttezza, la legalità e l'etica del lavoro La Regione deve dare un segnale forte in questa direzione E oggi abbiamo dato una voce secondo me che è stata forte e che spero venga ascoltata da tutte le parti sia dal governo e addirittura in Europa Ci siamo uniti tutte quante le forze politiche mandando un messaggio molto chiaro E ho sempre detto che quando si parla di lavoro, di tutela del lavoro, di dignità delle persone non ci sono colori e non ci sono distinzioni Questa è una vicenda che ormai ha assunto il respiro nazionale Sicuramente ci sarà modo di trovare una risposta a quel fenomeno che è non solo quello delle localizzazioni ma soprattutto queste situazioni patologiche di licenziamenti che arrivano dalla mattina alla sera e che sicuramente poi gettano nel panico famiglie intere e quindi creano anche un'emergenza sociale Quindi la risposta delle istituzioni è una risposta forte e di vicinanza Adesso vedremo se a livello di governo ci sarà una risposta altrettanto chiara che naturalmente però deve partire da due logiche Da un lato la tutela del lavoro, sicuramente cercare di intervenire sulle delocalizzazioni però non dobbiamo anche dimenticarci che in Toscana anche le multinazionali oltre a le tante imprese, alle tante attività artigianali, alle piccole ditte che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico ecco, questo rappresenta un sistema virtuoso che dà posti di lavoro Quindi noi sosteniamo questa battaglia però diciamo anche no a quelle logiche punitive che vedono talvolta le imprese sul banco degli imputati quando invece ci sono tante ottime imprese che danno lavoro nella nostra regione Il significato è quello di aver ascoltato i lavoratori perché hanno le idee molto chiare, spesso anche più chiare della stessa politica Sanno bene quali sono le conseguenze di certe leggi lo hanno vissuto sulla loro pelle e devo dire che i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione a noi politici e anche alle istituzioni perché è arrivato il momento di fare una scelta forte a favore delle nostre imprese ma veramente del tessuto produttivo del territorio che non vuol dire sempre favorire e aprire le porte alle multinazionali vuol dire favorire le imprese che veramente incentivano la crescita economica del territorio i lavoratori della GKN ci stanno dando una grande lezione La proposta di risoluzione che parte oggi dalla regione toscana è la voce dei lavoratori verso il governo cioè di che cosa deve contenere quel decreto anti-delocalizzazione Abbiamo criticato e condannato ogni passaggio sulla vicenda GKN come doveva essere e unanimemente con tutte le forze politiche abbiamo operato alla realizzazione di questa risoluzione e questa risoluzione che si indirizza chiaramente a voler essere partecipi col governo nella soluzione insomma di un provvedimento che serva a evitare casi come quelli della GKN noi sottolineiamo due aspetti fondamentali il primo è che si possa creare veramente un dibattito che non c'è stato né in quest'aula né fuori da quest'aula su ciò che è successo sulla GKN per domandarsi come in una città di mercato si possa veramente tutelare l'economia nazionale la produzione nazionale e il luogo dei lavoratori in questo momento importantissimo che è tutta la narrazione dell'Italia post pandemia dall'altro chiaramente e l'abbiamo visto in un testo che è stato modificato più volte di mitigare cioè di evitare di buttare via il bambino con l'acqua sporca perché nelle intenzioni di penalizzare le aziende che si comportano in modo scorretto e questo è veramente chiaro ed è oggettivo non si vada invece a fare il gioco contrario cioè a scoraggiare sostanzialmente quella che è la necessità invece di creare fonti di investimento che consentano appunto di facilitare gli investimenti in regione toscana è un impegno che abbiamo preso il sostegno ai lavoratori della GKN ci ha visti i protagonisti fin dalla prima parte come ufficio di presidenza come capogruppi abbiamo lavorato insieme abbiamo messo da parte le bandiere dei partiti abbiamo detto che bisognava insieme difendere i lavoratori doveva essere la Toscana difendere i lavoratori della Toscana in questo caso di Campi ma potrebbe capitare in ogni altra città della Toscana quindi bene essere arrivati poi alla sintesi unitaria che accompagna quella che è una sentenza del giudice ma non è sufficiente noi vogliamo che sia la politica e quindi il governo ad assumersi una responsabilità importante a tutela dei lavoratori La vertenza è risolta Si è risolta positivamente la vertenza Sittel con l'assunzione da parte di Team Servizi Digitali SPA al 100% controllata da Team di 135 lavoratori distribuiti tra Campi Bisenzio, San Miniato e Grosseto e il pagamento di 6 mensilità di stipendi arretrati in data 10 settembre Sittel opera nel settore della telefonia per la posa e la manutenzione di fibra, rame e mobile e sullo sviluppo del 5G un settore fondamentale, come dimostrato con l'emergenza Covid-19 per il diritto alla connessione, la didattica e formazione a distanza e la digitalizzazione del Paese La soluzione alla vertenza sindacale di Sittel è arrivata dopo l'intenso impegno del Consiglio regionale nei diversi incontri con i rappresentanti dei lavoratori e proprio per ringraziare le istituzioni per l'attenzione ricevuta i sindacalisti della CGL e della RSU aziendale hanno voluto incontrare il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo L'avvertenza ha riguardato circa 140 persone su tutto il territorio della regione toscana e 230 a livello nazionale per quanto riguarda il territorio fiorentino circa un'ottantina di persone hanno fatto appunto questo passaggio ovviamente nel frattempo qualche lavoratore ha fatto altre scelte giustamente perché ci siamo trovati in un periodo senza riscuotere senza avere soldi addirittura per andare a fare la spesa sicché qualche collega ha avuto dei problemi familiari e è dovuto andare via prima del tempo senza aspettare il risultato positivo che poi si è verificato il messaggio che noi oggi qui vogliamo dare oltre al ringraziamento non formale ma sostanziale alle istituzioni che si sono sempre dimostrate attente, pronte addirittura noi abbiamo fatto presidi e la regione è venuta giù a parlare con i lavoratori che non è proprio scontato quindi noi oltre al ringraziamento il messaggio che vogliamo mandare è che si può fare questa è stata una vertenza difficilissima difficilissima perché non era scontato il risultato ma noi ce l'abbiamo messa tutti e ce l'abbiamo fatta solo tutti insieme i lavoratori, le lavoratrici, i sindacati le istituzioni regionali, le istituzioni locali io sono contento oggi di suggellare questo momento perché è il segno che una comunità l'intera comunità toscana può combattere altre battaglie difficili penso a quella della GKN solo se si tiene tutta per mano la ripartenza delle scuole sono ripartite in presenza al 100% anche in Toscana le elezioni nelle scuole che per il terzo anno devono fare i conti con il covid le misure di prevenzione fissate a livello nazionale prevedono l'obbligo di mascherina per gli studenti maggiori di 6 anni ad esclusione delle attività sportive in vigore anche la distanza di un metro nelle aule il divieto di accesso per chi ha temperatura corporea al di sopra dei 37 gradi e mezzo e l'obbligo per il personale scolastico docente e non docente e per gli studenti universitari di esibire il Green Pass Green Pass che viene controllato all'ingresso degli istituti anche ai fornitori e ai genitori che per qualsiasi motivo entrano all'interno dei plessi scolastici per quanto riguarda i trasporti sugli autobus la capienza massima è fissata all'80% con corse aggiuntive messe in campo dalla regione d'intesa con le province e le prefetture secondo le norme vigenti in caso di positività al covid di un alunno l'intera classe viene posta in quarantena con ricorso alla didattica a distanza per 7 giorni in caso di alunni vaccinati e per 10 giorni per gli studenti non vaccinati una misura che ha portato in Toscana come in altre parti d'Italia a numeri consistenti di classi poste in quarantena al punto che la regione e le ASL stanno lavorando a nuove linee guida per la gestione dei casi di positività al covid nelle classi si stanno studiando correttivi a questo dispositivo uno dei più promossi è quello della cosiddetta quarantena aereo che prevede la messa in quarantena soltanto di coloro che in base a una individuazione più o meno attendibile dei flussi d'aria negli ambienti isolerebbe soltanto i contatti strettissimi i compagni di banco e le persone più vicine all'alunno in questione nel caso fosse positivo rimane chiaramente un forte dubbio per quanto riguarda i tempi di pausa perché in quel caso gli alunni si muovono vanno nei corridoi e quindi questo complicherebbe la valutazione e il tema degli insegnanti io sono d'accordo sono d'accordo c'è un atto nostro ormai approvato dal consiglio che chiede anche l'utilizzo dei tamponi salivari vedo che qualche scuola parte credo dovrebbe partire tutta la Toscana dovremmo semplificare la permanenza delle scuole dei ragazzi bisogna arrivare a fare in modo che la didattica in presenza non si interrompa mai e quindi anche le quarantene devono essere più corte possibile più circoscritte non bisogna mai fermare la didattica quindi io sono favorevole per quarantene mirate non per quarantene di classi o di istituti sempre presenza sempre alleggerire il peso sui ragazzi per arrivare poi a un certo punto a rendere strutturali i tamponi salivari e quando possibile anche con congruo distanziamento consentire ai ragazzi di non utilizzare la mascherina per i trasporti so per riportato da persone che i treni sono piuttosto affollati per i pullman penso che i pullman messi in più a disposizione abbiano in parte alleggerito la problematica per quanto riguarda i contagi leggevamo stamani 3.900 alunni contagiati questo vuol dire troppe classi in dad io credo che nelle classi dove il distanziamento c'è non occorra mettere tutta la classe se c'è un caso positivo bisognerebbe forse mettere i compagni vicini il punto di vista del Movimento 5 Stelle è stato sempre quello di seguire le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico quindi se il Comitato Tecnico Scientifico alla luce delle percentuali di persone vaccinate da un certo tipo di indicazioni noi siamo assolutamente favorevoli purtroppo c'è ancora il nodo del trasporto pubblico perché noi in Toscana scontiamo parecchio questo problema un po' dovuto anche all'avvicendamento a tutti i ricorsi al TAR a tutte le vicende giudiziarie che ci hanno visto penalizzati da questo punto di vista il discorso quarantena light quarantena normale il problema è un altro il problema è che in un anno non è stato fatto assolutamente niente per la scuola non è stato fatto niente di quello che era stato promesso per la scuola se non provvedimenti inutili come quello di diminuire da due metri a un metro il distanziamento tra i banchi e la cattedra come se quest'anno il Covid fosse stanco non riuscisse più a saltare di due metri ora salta solo di uno quindi credo che rientri in questi provvedimenti senza spiegazione l'unica novità per fortuna e questa sono felice che finalmente sia arrivata è quella dei tamponi salivari grazie a tutti Grazie.